Un minuto di raccoglimento ed il saluto dell'Aula. Il Consiglio Comunale di Napoli si apre con la commemorazione di Pasquale Losa, scomparso il 22 maggio scorso. Una persona per bene, ricorda pubblicamente il consigliere Antonio Borriello, che ha svolto con passione civile ed alto senso di responsabilità il suo impegno di una vita, prima da sindacalista, poi da politico e infine da amministratore pubblico al servizio della sua città. Assessore al lavoro ai tempi di Bassolino, nel 2001 Losa ricoprì la delega al personale nella prima giunta a Iervolino, di cui fu anche capo della segreteria politica. Fu presidente di Asia nel periodo più difficile dell'emergenza rifiuti e dal 2010 nominato assessore al personale fino alle elezioni del 2011. Oltre alla moglie Maria Antonietta e ai figli Ciro e Carolina, nella sala del Consiglio anche amici, ex assessori e consiglieri, rappresentanti del sindacato e tante persone che hanno avuto modo di conoscerlo. Il Consiglio Comunale ha poi nominato i cinque componenti elettivi esperti in materia di beni ambientali e culturali ad integrazione della Commissione Edilizia Comunale, rinviati invece alla prossima seduta agli altri punti all'ordine del giorno.